Dire che mi sento sicuro, sicuro perché ho sotto il braccio un successo, chi lo vede? Eccolo qui, oddio, sento che sta arrivando un artiglio, un artiglio con le nacchere, nacchere successo, o un antifurto, cos'è? Ah no, è Marcellina, ciao! Un bacio, una mano guantata, signori d'estate, non so se mi spiego. Ma è un guanto estivo, è un guanto, si vede che è tutto bucato, per far entrare anche l'aria condizionata, in modo che tu sia sempre... Eccola qui, Marcella, questo è il suo ultimo LP, eh? Il nuovo album, hai anche un 45 collegato a questo? Si, 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 tratto sempre da questo album, il 45 si intitola così, nell'aria. Comunque dentro l'album naturalmente ci sono altri pezzi, sono otto pezzi stupendi. Sesso e amore, eh? Sesso e amore, non guarda così, di Lavezzi, non mi avrai, poi c'è la battaglia stupendo, è una battaglia d'amore questa qui. Si, è un litigio fra me e il mio amore. E durante questo litigio ti è successo questa cosa che hai capito? Esatto, vedi che hai capito tutto? Questo? È vero. La classica spettinatura, scolopolosa. Sei invidioso, vorresti avere il mio cespuglio così. No, no, mi sentirei così a disagio, che sono abituato ad avere la testa libera, capisci? Mi sarebbe un peso per me. Poi con questo caldo è meglio. Sì, ma veramente, sei veramente disordinata al punto giusto. Proprio una bella spettinatura studiata, scientifica diciamo. Grazie. Che segna una ulteriore svolta, vero? Grazie, sì. Non so come sei, sei sempre più sexy, sottilmente sexy, provocatoria? Eh, Marcella? Ma non lo so se lo dici tu. Ma tu ti senti dentro una forza, eh? Ma io quello che sento lo esterno cantando con le mie canzoni. No, ma anche altrimenti. Con le mie interpretazioni, eccetera, eccetera. Ma io so che c'è qualcosa di tenero fra te e un personaggio molto grosso. Ma il buongiorno. Ah, insinui? Lo so perché l'ho visto. Beh, che è il momento dei presentatori, però non insinuare così, per carità. Ci sono stati dei baci, fratello, i rifiutati, non so, lui voleva baciarti o non voleva baciarti. Stai inventando tutto. L'ho baciata. L'ho aiuto, tu mi hai baciata. In diretto, sì, mi sono dato più che baciata un'asata. Ho dato un'asata a Marcella che è il massimo del sexy. E dunque, tornando a bomba. Torniamo all'album, torniamo all'album. Torniamo a Marcella che è molto più importante. Guardatela bene, non è un cioccolatino per l'estate? In confezione nera, bellissima. Poi, sai, con questo sole è anche difficile diventare bianco, rimanere bianco come te. Sì, io sono pallido di natura, ma lasciamo stare il lio e torniamo invece a questo LP. Sì, sai, l'arrangiatore sono due, uno c'è il Sovali che è fatto nell'aria e poi Fio Zanotti che è un ragazzo giovane e bravissimo. Fio Zanotti, poi ci sono dentro anche parenti. Poi la produzione di Gianni Bella, poi c'è una canzone di mio fratellino di Rosario Bella. Poi c'è una certa cheope o un certo... Che è finito di nuovo in volo. Poi c'è un cheope o una cheope... E poi c'è un parente di Mogol, precisamente il figlio. È un album estrettamente familiare, secondo me. Sì, è nato da un'equipe di gente a me molto vicine. È spettinato con me, in natura. Di persone vicinissime a me. Non abbiamo appurato benissimo tutto, circa questi nuovi amori con presentatori. Non ci sono. Però direi di percorrere, se la camera è così cortesi, di percorrermi Marcella. Per notare, guardate, questi meravigliosi guanti come sono così, eh? Sì, come completano le calze uguali. Sì, calte con le calze. Anzi, parsimoniosa, con l'avanzo delle calze si è fatta uguale. Ma è una trasmissione di moda o di canzoni? È una trasmissione curiosa. Curiosa. Ti stiamo curiosando tutti. Ah, ho finito di curiosare Marcella. Posso cantare? Direi di sì. Grazie. Se vuoi. Se vuoi. Nell'aria. Sì. Adesso diranno che ci siamo fidanzati. Ci siamo baciati a distanza. Mi raccomando, seguite nell'aria. È bello. Mi raccomando, seguite nell'aria. Voglia, voglia, vivere. Le domeniche tu chissà che cosa fai. Ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi. La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. Aria. Ti respiro ancora, sai. Nell'aria. Ti scaccio ma ci sei. Voglia. Tanta voglia dentro me. Una febbre che mi assale. Io mi sento così male. Spero solo che, che non bussi un uomo adesso. Mi comporterei come non vorrei. La mia mente è chiara, ma a volte è più forte il sesso. La mia gatta è ancora lì. Non parla ma dice sì. Aria. Aria. Quasi manca l'aria. Nell'aria. Ci siamo ancora noi. Voglia. Maledetta voglia che ai pervalli mi rassale. Io mi sento così male. Io non sono un animale. Sono un essere che ama chi non c'è. Il valore è sempre uguale. Carne e anima in passata. Senza te. A superclassificazione c'è Marcella. Ti scaccio ma ci sei. Voglia. Tanta voglia dentro me. Una febbre che mi assale. Io mi sento così male. Aria. Nell'aria. Nell'aria. Una febbre che mi assale. Io mi sento così male. Io non sono un animale. Sono un essere che ama chi non c'è. Il valore è sempre uguale. Carne e anima in passata. Senza te. Aria. Ti respiro ancora. Nell'aria. A te la lì.